Buongiorno carissimi studenti, oggi cominciamo insieme la lezione numero 25, ma voi ricordate la lezione precedente, ricordate la lezione precedente che abbiamo parlato insieme della società di massa, nella lezione precedente ragazzi abbiamo parlato dei cambiamenti della società, delle trasformazioni sociali, abbiamo costruito una mappa concettuale, che riassume il concetto della società di massa. وعملنا خريطة مفahim, بتتكلم على società di massa. 3. abbiamo esbligato le cause e le conseguenze di questo cambiamento sociali. 3. 4. 4. 5. 5. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 12. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 16. 15. chi è ノ che alli ho il quattroggiato dell'app gruppo di l'ai il passato il organizato della procedents dell'ag徒 che non ottimo barchico di Questa è la lezione di oggi. Carissimi studenti, dovete cliccare su questo link per guardare questo video. Le condizioni dei lavoratori In molti paesi europei e negli Stati Uniti d'America, dove è stato maggiore lo sviluppo industriale, Nasce la questione sociale, cioè il problema delle condizioni di vita e di lavoro degli operai in fabbrica. In molti paesi europei e negli Stati Uniti d'America, dove è stato maggiore lo sviluppo industriale. La migrazione Frame술 del Perib punk immer wide da attivazione cracked. б chi hanno bilanciato il disni d' nghĩa dell'Europa Uniti, dell'Europa della Coletti d'Un elsewhere. Già il vertiglio delle condizioni e le condizioni di vita e di lavoro della informazione. In ogni caso, non dicesse la questione sociale alla ambiciosa, GUYS tymor sometimese del problema e delle condizioni di vita e della lavoro del operai in fabbrica. che aveva il suo gioco per l'amministrazione di queste ricezze che sono aziende per l'amministrazione che hanno lavorato in questo contratto ma 봐 quando si traspassino la questione social l'amoria ma è un'ermozione ma è un'eropente l' prengie la seconda dell'ambio che non è neva industria industrie erano sempre più grandi e davano lavoro a migliaia di operai. Spesso questi operai erano contadini che arrivavano nelle città dalle campanie in cerca di lavoro. Le nuove industrie, alpare il città. Erano sempre bubir, erano sempre bubir, erano sempre bubir, capiret davano lavorare, davano lavorare, davano lavorare a migliaia a milaia, allaf العmali, mi stagglie a mila dell'amore, l'amma del, erano contadini, il che di 겨o le fattabano che arrivavano nel città, i lavoratori di questo, cui è passato ersi la moble la la Volevamo chiedere? Gli operai, i lavoratori, lavoravano nelle fabbriche senza interruzione. Il lavoro era ripetitivo e stancante. Senza interruzione. Lavoro era ripetitivo. Il lavoro era ripetitivo e stancante. Era difficile. Il lavoro era ripetitivo e stancante. Il lavoro era ripetitivo e stancante. Se lavorava vicino alle macchine, alla catena di montaggio, per produrre beni in grandi quantità. Se lavoravano in grado di montaggio, la catena di montaggio, per produrre beni in grandi quantità. in questo slide abbiamo parlato della questione sociale dei lavoratori. Cosa significa la questione sociale? La questione sociale è il problema delle condizioni di vita e di lavoro degli operai nelle fabbriche. Gli operai arrivavano dalle campagne nelle città per lavorare nelle fabbriche. Il lavoro nelle fabbriche era difficile, era stancante, era ripetitivo. Lavoravano senza pausa, senza interruzione. Va bene? Gli operai lavoravano vicino alle macchine nelle catene di montaggio per produrre beni in grandi quantità. Le condizioni di lavoro erano molto difficili. Gli operai passavano in fabbriche anche più di 12 ore al giorno. non avevano nessun diritto e sicurezza. Quindi il termine di lavoro. Gli operai erano molto difficili. Gli operai passavano quando erano in fabbriche quando erano in fabbriche più di 12 ore al giorno. non avevano nessun diritto. Non avevano nessuna direttura. Gli operai non siques o non seques o non c'è una amante. E non avevano nessuna amante. Quindi non avevano nessuna amante. E non avevano una amante o non c'è una amante. Gli operai erano licenciati senza motivo. E perdere facilmente il lavoro. E potete essere licenciati. senza motivo e perdere facilmente il lavoro e si può perdere beseglie le operai svolgevano il loro lavoro in fabrique spesso ed affollate il verbo svolgere il verbo svolgere il verbo svolgere il verbo svolgere ed affollate e il verbo svolgere il verbo svolgere piena di persone la fabbrica era simile a una prigione prigione dove i lavoratori venivano sempre controllati e con ritmi di lavoro altissimi in cambio di salari molto bassi questo sfruttamento come bene sinile una prigione zwa dove ili fi ili fi ili ai数 si 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 ili Dìma nè, c'è qualcosa che hai detto, responsabile, con le due 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 dei mari, l'عمal. تمام? بيشرفوا عليهم. دايما بيرقبوهم. con ritmo di lavoro, ritmo di lavoro, ritmo di lavoro, ritmo di lavoro, lì ha معدلات العمل كانت عالية جدا. معدلات شغلة سريعة, شغلة بسرعة. تمام? in cambio, في المقابل, salari molto passi. وبياخدوا مرتبات. بيشتغلوا كتير. تمام? يا شباب? ومرتبات ضعيفة جدا. وده باي اسمه. قلنا سفرطامنتو اللي هو ايه? استغلال يا شباب. يبقى هنا. ظروف الشغلة كانت صعبة جدا. بيشتغلهم اكتر من اتناشر ساعة. ما لهمش اي حقوق ولا تأمين. ممكن يمشي لاي سبب. بيشتغلوا متسخين وفي زحمة. الرتم المصنع زي السجن. آآ رتم العمل. معدلات العمل عالية جدا. ومرتبات ضعيفة جدا. نعم الهabel اله admired عالي كانت صعادة ينسخه ما بإمникаحفة اسف المش trouvé ترذيف الثانية سعادة بسغطة لما رابع Elsى ان Launchioxidات الحركة بن عامل عالية عالية ق landed الب hive من خانزي الليلعم . . . senza servizi pubblici di base e anche questo è il fuori della fabrica خارج il masoni l'amma e l'amma e l'amma e l'amma che vivono in un quartiere in un quartiere in un attimo non si non aggiungi senza servizi pubblici di base non c'è alcune delle cose che non c'è alcune come acqua faunia luce La classe operaia è una nuova classe sociale, detta anche proletariato, fatta da migliaia di persone che avevano in comune la dura vita in fabrica, una massa di operaia poveri. La classe operaia, 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 c'è un'appartamento La classe operaia è una classe sociale fatta dalle persone che lavorano nelle fabbriche che hanno una vita difficile. i borghese e i capitalisti invece vivevano in quartieri ricchi e con tutti i servizi. i borghese è la finestra. la regia l'agni che ci sono i amici per il mace, hanno messaggiati. le loro che vivono in questo modo, sono iniziati a un'attività, non è iniziato, ma non è iniziato. Il mondo è lì, c'è un'attività, è iniziato. è un'attività, è un'attività, è un'attività, è un'attività. Ma c'è un'attività, è un'attività, è un'attività, è un'attività. facile le condizioni di vita erano buone le condizioni di vita erano buone perché non erano in quartieri ricchi e hanno tutti i servizi e hanno tutti i servizi e hanno tutti i servizi a volte gli operai erano costretti a fare gli scioperi per ottenere i loro diretti perché hanno una vita difficile lavorano tante ore al giorno senza pausa hanno i salari passi per questo hanno fatto degli scioperi per ottenere i loro diritti quindi il è è è il è una città di troppero, è una città di troppero, che è una città di troppero, è una città di troppero. Grazie.